Grazie, Ministro. Ha chiesto di parlare il Senatore Renzi, ne ha facoltà per cinque minuti. Signora Presidente, Italia Viva ha chiesto questo appuntamento, della quale ringraziamo lei, ringraziamo la conferenza dei presidenti di gruppo e naturalmente ringraziamo il Signor Ministro, perché pensiamo che su questo tema stiamo rischiando moltissimo. Nella vita quotidiana delle famiglie questa vicenda sta pesando come uno tsunami, sia per esigenze strettamente economiche che per una questione di fiducia. Dopo due anni di Covid arriva una botta ulteriore e sappiamo quanto sia importante la fiducia nell'economia. Dunque abbiamo chiesto questo appuntamento, ci dichiariamo soddisfatti, Signor Ministro, delle sue considerazioni e aggiungiamo le nostre molto brevemente. Il tempo non permette altro che dei singoli tweet. Prima però premettiamo che stiamo parlando di una guerra e quando si parla di una guerra la prima immagine, il primo pensiero, il primo momento di riflessione va a quelle famiglie che stanno perdendo i propri cari, a quelle immagini delle donne incinta che perdono i bambini, a quelle immagini delle famiglie che vengono costrette a lasciare l'Ucraina. Ribadendo che c'è un aggressore la Russia di Putin e c'è un aggredito l'Ucraina, su questo non ci possono essere dubbi. C'è un elemento in più, tuttavia. Io penso che siamo in presenza di uno stravolgimento. Quelli che dicono che ciò che sta facendo Putin è un morale, a mio giudizio sbagliano. Quello che sta facendo Putin è immorale, ma non è un morale, è figlio di una visione strategica che sta spostando ad est la mappa del mondo. E questo ha ragione il Signor Ministro a dire che ancora non ci sono i gasdotti. Ma negli accordi del 2021 e 2022 è evidente che c'è un patto Russia-Cina che si apre al sud-est e più in generale ai paesi asiatici ed africani che deve farci riflettere e farci domandare ma noi come Unione Europea che vogliamo fare da grandi? Perché ieri Zelensky ha detto giustamente noi non entreremo nella Nato. Una volta che abbiamo detto questo, che è un punto importante per arrivare a una tregua, la domanda è ma la Nato oggi. Quale missione strategica ha? Quella di combattere i terroristi islamici, i cyber attacks o di andare a essere un ricordo del passato? È un grande tema di cui non possiamo discutere oggi qui. Quello che è certo è che il mondo si sta spostando ad est e la Cina è sempre più centrale. Da questo dobbiamo partire. Per arrivare a dire che cosa? Per arrivare ad avere delle conseguenze nella vita nostra. Oggi, con quello che è accaduto, grazie anche all'azione del Ministro, è evidente che ha finito il tempo del no a prescindere sugli impianti. Per un quindicennio c'è stata una ubriacatura da no a prescindere. Io ho fatto il Presidente della provincia e ci avevo comitati del no per i termovalorizzatori. Ho fatto il Sindaco e ci avevo il no per qualsiasi intervento sull'energia. Ho fatto il Presidente del Consiglio e ci avevo il no sul TAP. Ora non voglio stare a rivendicare quello che abbiamo fatto noi. Il punto fondamentale è che in questo pianeta o si pone il tema dell'energia come chiave, non soltanto per una questione economica, ma per una questione di giustizia, oppure ci portano tutti via. E saremo sempre più insignificanti nello scacchiere internazionale che cercavo rapidamente di delineare. Ecco perché è assurdo che ci siano delle regioni che hanno bloccato non solo le trivelle, ma hanno bloccato le rinnovabili. Questo è accaduto in questi mesi e bisogna avere il coraggio di dire che questo ha fatto male al nostro portafoglio e alla nostra credibilità. Dopodiché, signor Ministro, lei ha detto una cosa. Lei porta in Europa la proposta italiana perché ci sia un tetto ai costi. Ed è fondamentale anche perché se giustamente si dice che c'è una truffa e lei ha fatto bene a dirlo, è chiaro che sono i truffati, i cittadini, ma bisogna anche dire con forza che i truffatori devono essere messi in condizioni di non truffare più. Il punto fondamentale è che serve un tetto, perché la casa degli italiani, e chiudo, è una casa che ha bisogno di un tetto al costo della benzina. Le bollette stanno facendo impazzire le nostre famiglie. Per arrivare alla chiusura e saltando tutta una serie di considerazioni che avrei voluto farle, signor Ministro, allora bene andare nella direzione di mettere un tetto finale alle spese degli italiani, però si abbia anche il coraggio di mettere questa dinamica dentro una cornice più ampia. Sta cambiando il mondo. Il mondo provoca una necessità di nuovo protagonismo dell'Italia. Non si può fare un ragionamento di lungo periodo senza pensare che nel frattempo le famiglie, le imprese, le RSA, il mondo delle scuole, il mondo della quotidianità, sta soffrendo una crisi che non era prevista e che non ha paragoni immaginabili degli ultimi trent'anni. Buon lavoro, signor Ministro. Siamo con lei.